non è lì no ma non per tiro l'ho no 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 non pingava nessuno non pingava eravamo anche lontani eh uno è lì ok se devo tirarlo ora secondo me quello c'ha fantasma ci mira che c'ha eh ci ha visti ragazzi so come ci ha visti ok uno basta no non c'ho tanto bravo questo è il migliore siamo ci abbiamo qua eh raga ci abbiamo sia quadrato che qua dobbiamo crossare ora raga dobbiamo crossare ora per forza e dobbiamo provare ad andare qui qui che 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 Grazie a tutti.